Per le nostre aziende, per cui è fondamentale essere ormai sul mercato mondiale, è importante partire dalla propria terra. Chi ti compra all'estero vuole sapere se sei qualcosa a casa tua e se non sei qualcosa a casa tua rappresenti un pochino meno. Quindi essere un partner di Silvano, essere presente nella sua distribuzione, vuol dire avere una grandissima vetrina nella propria città, nel proprio territorio e non solo e quindi avere quella base solida che ci permette poi di comunicarci dovunque. Lavorare per la nostra terra e per i nostri concittadini è bellissimo. Insomma, Silvano rappresenta il punto di riferimento no gastronomico per Parma e quindi essere nelle sue vetrine, essere con lui, essere portati in giro attraverso la sua attività per noi rappresenta un modo per farci conoscere ancora di più e per avere quella grande corrispondenza tra città, territorio e prodotto. Grazie!